I miei esseri umani sono questi che rappresento nelle opere che hanno qualcosa di puro perché riguardano un po' quello che l'uomo sente anche come principi profondi non sono molto descrittivi rivelano un po' più un pensiero la difficoltà di far scomparire e apparire i volti è una delle cose con cui mi misuro ogni volta io comunque vengo da una città che è Livorno dove la tradizione dei macchiaioli, dei paesaggisti è altissima ma secondo me il miglior paesaggio è il volto dell'essere umano non per niente poi studio e volte anche per l'attività di trasformista quindi è una cosa innata nella quale ho sempre creduto non riuscirei a fare cose dove non ci fosse l'essere umano nei primi tempi pur rappresentando sempre l'umanità era un'umanità un po' dolente erano quadri che contenevano qualcosa di più triste forse cioè era un'umanità che soffriva o che voleva quasi rassegnarsi ad essere trascinata nei problemi diciamo spirituali ora c'è sempre la problematica dell'interrogarsi dell'essere umano però c'è più forza e più voglia di capirci c'è qualcosa che insomma crede un po' di più forse anche nella sopranaturalità si tratta di un quartiere ex degradato in Miami che si chiama Wynwood pieno di capannoni che è stato trasformato da poco dagli artisti di tutto il mondo nel quartiere forse più importante per quanto riguarda l'arte perché muralisti e grafitari di tutto il mondo hanno coperto con le loro opere tutti questi capannoni sono stato chiamato a farne uno anch'io è stato bellissimo perché è un muro di 18 metri l'ho praticamente tutto improvvisato ed è venuto fuori un gigante che esce quasi dalla strada è bello perché rimane nel tempo è bello perché questo quartiere è importante quindi per me è stato un onore la prima volta che vado in America insomma ci sono andato con una cosa bella continuano le mostre di pittura a Varese, a Firenze e anche ad Ambersa continua a strisciare la notizia e la cosa più importante è questo lavoro teatrale che debutta il 28 novembre a Livorno al Teatro Goldoni poi sarà a Roma, a Sala Umberto su Lucio Dalla che racconta tutta la mia vicenda di appassionato fan di Lucio Dalla che poi è diventato mio amico è venuto addirittura a cantare gratuitamente la mia mostra quindi racconta un sogno realizzato c'è un'orchestra io piano piano divento Lucio Dalla e canto le migliori secondo me canzoni e canto le migliori secondo me canzoni grazie a tutti